Vale 35 milioni e mezzo di euro il piano degli interventi urgenti per la ricostruzione dopo l'alluvione dello scorso 10 settembre che il presidente e commissario Enrico Rossi, tornato a Livorno, ha presentato entro i 30 giorni previsti dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale dell'ordinanza del capo del Dipartimento di Protezione Civile. Il piano, ha detto Rossi, ha ricevuto l'assenso di tutti gli enti interessati, tra cui comuni, consorzi e genio civile, e si compone di 20 milioni che arrivano dal bilancio regionale e 15 e mezzo che arrivano dal governo. L'assenso riguarda gli interventi di prima urgenza, che sono stati fatti per un totale di 7 milioni e poi ben 150 interventi di opere pubbliche che siamo riusciti ad attivare per un totale di ben 24 milioni. Ripeto, 150 interventi per 24 milioni. Una cosa davvero straordinaria, della quale ringrazio tutti i tecnici. 81 i cantieri avviati in 6 settimane per la sicurezza idraulica, 40 per la viabilità, a cui se ne aggiungono altri 35 per risolvere problemi causati dal disastro del 10 settembre. La regione ha poi messo altri 8 milioni a disposizione delle famiglie, che a causa dell'alluvione hanno subito danni. Entro novembre il bando, con l'obiettivo di rispondere a tutte le domande e far arrivare i soldi alle famiglie entro la fine dell'anno, in attesa dell'arrivo delle risorse nazionali. Sui privati sono state raccolte 2050 domande per un importo complessivo di danni di 33 milioni, più o meno, fra tutti e tre i comuni. Sono stati ammissibili per il nostro contributo regionale circa il 75% delle domande, sul Livorno un importo di 25 milioni. Intanto, tra gli interventi già finiti ci sono quelli sui torrenti Ugione, Chioma e Morra, sui Rii Ardenze e Maggiore e sul Botro Quercianella. Grazie a tutti.